Avete sentito squadre Bau Boys? C'è chi conta su di noi e allora è giunto il momento di attivarsi, specialmente presso le nostre strutture partner. Tra tutti i Bau Camp che trovate sul nostro sito, oggi vogliamo segnalarvene uno in particolare, il gattile Enfa di Bergamo. Si occupa di abbandoni e allo scopo si è attrezzato in maniera molto speciale. La ruota dei monasteri di una volta per i bimbi, predisposta per chi, volendo restare anonimo, voglia lasciare qua il proprio gatto. La struttura, che a oggi ospita più di 150 gatti, ha bisogno di una mano dai Bau Boys. Dal coccolamento dei gatti, pure delle pulizie, in tante piccole cose che sarebbero di grande aiuto. Avete capito bene, bisogna darsi una mossa. Su BauBoys.tv e sui numeri di agosto e settembre delle nostre riviste partner, trovate i recapiti del gattile Enfa di Bergamo e di tutte le altre strutture BauBoys. E per le vostre segnalazioni, iscriveteci a redazione at BauBoys.tv BauBoys, ci aspettiamo!